Eccoci che dopo il flop di stamattina finalmente è uscito il sole e adesso possiamo rifarci e ci stiamo recando a fare una passeggiata serale a Prave. Ancora c'è l'era, eh? Arresta video! Ancora c'è l'era, eh? 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti